I Antonio Parisi con la tenuta da lavoro ad aprirci la cappella di Manopello, qui sono sepolte le vittime del paese abruzzese e chi ha pagato di più, lì nella miniera belga del Bois du Coisier. Era l'8 agosto del 1956, un incendio spense la vita dei minatori che lavoravano in condizioni disumane. Manopello, dopo aver ricordato alle 8 e 10 l'ora della tragedia, le vittime nella piazza centrale con le autorità, non dimentica. Il sindaco Giorgio De Luca è andato in Belgio e nella cittadina abruzzese diverse manifestazioni per ricordare. L'assessore Giulia De Lellis parla della Due Giorni, che ha coinvolto anche i più giovani. Manopello è stata definita città martire. L'8 agosto si celebra tra l'altro la giornata nazionale del sacrificio del lavoro italiano nel mondo, ricorrenze istituita dal Presidente della Repubblica nel 2001. Adesso stiamo per andare in un luogo simbolo, ovvero il cimitero. Sì, stiamo per andare al cimitero dove c'è la cappella delle vittime di Marsinelle. Nel 1956, dopo il rientro delle salme in Italia, fu costruita questa cappella nel cimitero adiacente alla Basilica del Volto Santo. Questo luogo è tutto molto simbolico e rappresentativo per Manopello. È un luogo molto importante perché c'è il volto santo di Manopello a fianco a quello che è il monumento rivolto alle vittime, a ricordo delle vittime di Marsinelle. C'è un gemellaggio tra Manopello e Charleroi che suggella un legame profondo. Stamattina, a deporre alla corona di alloro, anche l'In Manouvrier, consigliere comunale di Charleroi, è nell'organizzazione delle iniziative per non dimenticare la tragedia. Lì ora c'è un museo, vero? Sì, sì, c'è un museo alla Boa di Casier, c'è stato nel 2002 aperto il museo, fa 20 anni che c'è stato un museo, è un lavoro normale, è una memoria per le vittime. Lei in quale miniera ha lavorato? In Belgio? Io ho lavorato nella miniera di Limburgo, di Beering Main, per 27 anni. Solo era un'altra epoca, io ho visto il cambiamento nel 65, quelle che lavoravano in pantaloncini e maglietta, palla e picco, a noi invece in quell'epoca con idraulico, tutto meccanizzato diciamo. Noi conserviamo ancora questo grande tesoro che sono i parenti delle vittime e in particolare le molli che erano giovanissime all'epoca, nel 56 erano quelle che abbiamo a Manopello, Lucia e Maria erano tra le più giovani vedove, addirittura Maria era incinta di Camilla e oggi con noi c'è anche la figlia Camilla Iezzi. Tutto l'Abruzzo ricorda le 60 vittime della nostra regione, 23 di Manopello, dei 262 minatori morti, 136 erano italiani. Grazie a tutti.